La nostra morte è amore. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Ave Maria piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che fu flagellato per voi. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie al principio e al sempre, nel secolo e nel secolo avanti. Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, Ottiedici di non essere mai causa di sofferenza per i nostri fratelli e di prenderci cura di quanti sono trovati dall'ingiustizia e dal dolore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario. Grazie a tutti. Terzo mistero, Gesù è coronato di spine, dal Vangelo secondo Giovanni. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela pose il risultato e gli missero addosso un mantello di porcora. Grazie a tutti.